Fine anno, tempo di bilanci, ma noi giochiamo d'anticipo, forse perché giochiamo in casa. Al presidente Vincenzo Cimino chiediamo che anno è stato, almeno fin qui, per l'ordine dei giornalisti del Molise. Molto positivo, oltre 100 corsi formativi svolti, l'attività dei colleghi al 90% è stata completata, un avanzo di amministrazione di circa 10.000 euro, tante convenzioni con l'università, con l'ufficio scolastico regionale, con altri ordini professionali. Quindi ritengo che unitamente al Corecom abbiamo lavorato in lungo e in largo in tutta la regione, riscuotendo dei successi, nonostante il periodo di grossa crisi, che è inutile nasconderlo, attanaglia il mondo dell'editoria. E nonostante la crisi, in un settore, quello più in generale dell'informazione, con il blog, diventato uno strumento di comunicazione di massa, in un'era, quella digitale, in cui la periferia geografica non è più un minus, non così importante rispetto al passato, almeno, i giornalisti hanno un futuro. Anche in Molise ne è convinto il presidente Cimino. Considerando che il mondo dell'informazione, il mondo dell'editoria cambia, perché c'è un avanzamento della tecnologia che va a sopperire il vecchio cartaceo, che è in disuso anche nella nostra regione, giustamente, la direzione è sempre quella della velocità, quindi quella del telematico. Anche piccole realtà ben organizzate possono dar vita a delle forme di giornalismo autonomo, in un circoscritto territorio, in costante aggiornamento, che possono dare delle risposte anche in termini occupazionali, ovviamente limitate, ma purché ci sia il coinvolgimento istituzionale, abbiamo una legge regionale per le editorie, e ovviamente un coinvolgimento da parte di partenere privati, che comunque devono dare una mano, altrimenti con la sola pubblicità istituzionale non si riesce ad andare avanti. In un territorio misero come il nostro, senza un minimo di imprenditori, è difficile mantenere un'economia editoriale autonoma.